Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ancora una volta all'interno della mia Crypto Studio, io ovviamente sono Carlo Dipinto e oggi parliamo di questa bellissima signature di Jeff Beck, ma prima ovviamente sigla e poi l'ascoltiamo su una piccola demo audio. Grazie a tutti. 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 Andiamo a vedere le caratteristiche di questo strumento. Abbiamo ovviamente un corpo in alder, tastiera manico in acero, tastiera in palessandro, inoltre molto più scuro rispetto alla mia e mi piace molto di più, roller nut che è questo capotasto montato qui, meccaniche autobloccanti, tremolo due viti, tono dove il potenziometro del tono funziona anche sul pick up al ponte, tre single coil hot noiseless, manico abbastanza cicciotto, ok non è slim, non è così cicciotto, faccio dei paragoni alle chitarre che ho avuto, il manico più grosso che ho avuto è stata la Fender Telecaster Ricicozze, che comunque sia io prediligo dei manici cicciotti, sarà perché sono nato su una 62, ok ho studiato su quella chitarra lì, quindi prediligo appunto il feeling che mi dà un manico più grosso, e si adatta di più alla forma della mia mano. Molti mi hanno già chiesto vedendolo online, ma il manico di questo è uguale al tuo manico? Sì ragazzi, le chitarre sono identiche, negli anni che cosa è successo? Che magari non avevano questa smussatura che poi successivamente l'hanno inserita. Adesso è facile trovare queste caratteristiche su tante altre Fender, ci fu il periodo credo 2002-2003 non ricordo, ci furono le Deluxe che avevano le stesse appunto modifiche con meccaniche autobloccanti, roller nut, e quindi un po' la Jeff Beck si va a perdere all'interno di questi strumenti. Ancora adesso mi chiedono, ma che senso ha prendere la Ultra e non la Jeff Beck? Diciamo che lo strumento è diverso, il feeling è diverso, il suono è diverso, non è un HSS e inoltre in più ha, per esempio, il Rollenart. Perché Fender dopo il modello Deluxe poi lo tolse e continuò a mettere dei capotasti praticamente normali o come appunto quelli in graffite. Eccoci qui ragazzi, io ve la faccio sentire, vi faccio sentire qualche sample e poi ve la faccio sentire su alcune backing track che ho di Jeff Beck. Ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.